ciao a tutti ragazzi che comunque sono i miei tiker quest'oggi qua davanti a me questa piccola scatoletta bianca all'interno della quale abbiamo un caricatore un po particolare la marca che porta questo prodotto è la ace fast il modello che dovrete andare a cercare ma comunque vi dico già che vi lascerò il link in descrizione poiché vi spoiler già che il prodotto è molto buono e oltre al link vi lascerò un piccolo sconto da utilizzare su amazon ad ogni modo il modello è questo qua che si vede sopra il mio ditone ed è la 17 in questo caso lo vedremo nero c'è anche bianco e il motivo per cui sono qui a proporlo oggi a consigliarlo oltre appunto a essere un ottimo caricatore da cellulare sapete che soprattutto negli ultimi modelli le case produttrici hanno deciso di farli sparire dalla confezione ma al di là di quello come vi dicevo ha delle peculiarità sue proprie ad esempio per noi videogiocatori potremo andare a collegare la switch a un televisore a un monitor senza l'odiosissima e grossissima dock originale della nintendo immaginate di andare in viaggio in vacanza a portare questo cassone è veramente molto molto scomodo in passato vi ho già proposto delle soluzioni alternative appunto per collegare la switch alla televisione senza l'ausilio di questo coso ad ogni modo oggi voglio proporvi anche questo perché credo che sia effettivamente una delle soluzioni più valide la confezione la potete trovare in due modi o quella più semplice in realtà ho visto in rete anche confezioni dove qua si apre uno sportellino un po più carine ma ad ogni modo quello che conta è il contenuto andiamo a vedere appunto all'interno dove troviamo in bella vista il nostro caricatore leviamo un attimo questa pellicolina caricatore che è abbastanza grosso abbastanza pesante ma di fatto come potete vedere qua dietro nasconde delle sue peculiarità porta hdmi porta usb type a e porta usb type c ebbene come vi dicevo potrete collegare alla type c la vostra switch uscire con l'hdmi andare a un monitor nel televisore e vederlo senza alcun problema oltretutto questo piccolo caricatore se consideriamo appunto le uscite e le caratteristiche che ha vi permette una ricarica rapida fino a 65 watt di potenza distribuita di fatto in 60 watt dalla type c e 5 watt dalla type a per quanto riguarda invece la trasmissione dati abbiamo usb type c che trasporta fino a 10 gigabit per secondo mentre invece dalla usb type a arriviamo fino a 5 hdmi che invece trasporta permette di arrivare a 4k in 60 hertz e quindi sinceramente caratteristiche di tutto rilievo faccio una piccola digressione su questa scritta gun che mi sta ad indicare che la componentistica i semiconduttori interni non sono in silicio ma sono in nitruro di gallio non vi sarò fare una lezione di scienza e di tecnica ma vi posso dire che questo materiale questo semiconduttore ha caratteristiche elettriche e termiche migliori effettivamente del silicio questo di fatto lo usano le aziende che producono prodotti di alta qualità proprio perché oltre ad avere un trasporto migliore della corrente possiamo ottenere una migliore gestione del calore con spazi ridotti tra le componentistiche interne di fatto metto un attimo qui il mio caricatore vado sotto la mia confezioncina per farvi vedere quello che è il cavo assolutamente cavo di qualità parte metallica finale usb type c da una parte e dall'altra cavo che dovrebbe essere lungo un metro e 80 cavo telato quindi anti attorcigliamento di sezione abbondante perché di fatto lui è in grado di supportare potenze fino a 100 watt cavo ovviamente tarato sulla trasmissione massima e possibile della porta usb type c e quindi come vi dicevo prima di fatto questo oggettino con questo cavo sono in grado di trasportare un segnale 4k fino a 60 hertz piccolo libretto di istruzioni ovviamente manca la parte in italiano ma di fatto è abbastanza semplice andare a fare tutti i collegamenti in questione adesso vi faccio vedere appunto il collegamento della switch alla televisione ma prima di far ciò vi ricordo che può essere utilizzato questo oggetto anche come hub di fatto collegando un computer un mac attraverso porta usb type c inserendo poi magari una chiavetta all'interno della type a e di fatto così potrete andare a prelevare il contenuto copiare cose all'interno della chiavetta stessa riaccomi qui ragazzi sono andato a munirmi di cavo hdmi collegato al mio televisore come dicevo basta inserirlo nella presa sul nostro caricatore ace fast prendiamo il cavo type c in dotazione andiamo a inserire anch'esso all'interno del nostro caricatore ovviamente non scordatevi dovremo dare corrente allo stesso una volta fatto questo piccolo collegamento non dovremo far altro che prendere la nostra switch l'altro capo del cavo usb type c e inserirlo qui sotto cambio di inquadratura ragazzi per farvi vedere la nostra switch in questo momento ovviamente funzionante in mobilità dietro il nostro televisore cx lg prendiamo il cavo usb type c collegato come vi ho fatto vedere prima al caricatore e lo andiamo a inserire qua sotto alla console nel giro di pochi secondi come vedete il video si trasferisce alla televisione alle mie spalle dopodiché ovviamente andremo a impostare il comando tramite un joy con un controller esterno e potremo così usare la nostra switch sul nostro televisore bene ragazzi che dirvi siamo tornati sulla nostra scrivania ho scollegato tutto avete visto il funzionamento molto semplice ma molto performante di questo caricatore io sinceramente ci tenevo a farvelo vedere perché ripeto oltre a essere un ottimo caricatore per cellulare per tablet ma anche per piccoli portatili di fatto la funzione che trovo veramente interessante in linea con le caratteristiche sono maggiormente presenti sul mio canale youtube e appunto la possibilità di utilizzare il caricatore per trasferire il video a un monitor o una tv ovviamente se qui collegherete un mac o comunque un portatile potrete fare il doppio schermo con un monitor esterno così come ragazzi se ve lo permette il vostro cellulare potrete fare la stessa identica cosa con esso collegate usb type c dietro al cellulare collegate usb type c al vostro caricatore hdmi verso uno schermo o un tv ed ecco lì che avrete trasferito il video dal cellulare alla vostra televisione quindi ragazzi salutandovi vi ridico che in descrizione troverete il link per l'acquisto un codice sconto se il video vi è piaciuto ovviamente lasciate un like registratevi del canale e accendete la campanella per i prossimi contenuti per questo video è davvero tutto io vi saluto ci vediamo alla prossima qua ai megaticker e ciao 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 ciao